L'Università è particolarmente ingaggiata, impegnata nel fare di questa nuova edizione del Salone qualcosa di assolutamente straordinario e innovativo e lo saremo anche per gli anni futuri e ringrazio Mario Mutancini per aver ricordato che il nostro accordo è stato pensato per i prossimi tre anni e quindi non è certamente episodico. Lo faremo con delle azioni che abbiamo definito di sistema e quindi mettendo a disposizione del Salone la nostra comunicazione. L'Università è una delle istituzioni culturali più importanti della città di Torino e rientra la collaborazione con l'Università nell'idea che avevamo all'inizio proprio dei nostri lavori. Ci abbiamo detto che Torino ha una serie di eccellenze, proprio la città, c'è l'Università, c'è la rete delle biblioteche civiche, c'è le librerie indipendenti, c'è la Oden, c'è il Museo del Cinema, proviamo a stringere un'alleanza con tutte, per esempio il Salone Hof sarà anche nel Museo Egizio che ci ospiterà e quindi è in linea con questa filosofia qui. Grazie.